Dopo due anni di avventure ottene una nuova coppia e una nuova dressa. Quindi ho pensato di iniziare dalla mia origine dove tutto inizia. Per la disassemblia e la reassemblia, mi sono andato al laboratorio Princikes, che è dove ho iniziato a raccogliere. Per la pittura, mi sono andato a Robi Painting, l'historico veronese di Inter, che, di altre cose, ha decorato le biciclete per l'Olimpico, Paola Pizzo, e per l'Olimpico, Giovanna Borazzi. Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.